CONOCIAMO BENE PECHMORACOTE Conosciamo bene Pech Moracote, sappiamo che è un ottimo atleta. È un avversario mancino, un avversario ovviamente difficile da incontrare. Non lo so, io lavoro molto con le braccia, lavoro anche con le gambe. Voglio dimostrare Surin. Io non ho capito, non ho capito, non ho capito. Non ho capito, non ho capito, non ho capito. Vedo la fine di questo match, vedo sicuramente un incontro duro. Io mi preparo al massimo, come ho sempre fatto. Alla fine sicuro ci sarò un vincitore, non come è stato l'ultima volta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.